Per ottenere sperimentazioni come questa biblioteca di mobilità dolce e sostenibile in questi territori, significa dover affrontare almeno questi tre temi. Incrementare la qualità della vita delle comunità attraverso il protagonismo dei cittadini e l'attivazione e animazione di aggregazioni locali, gruppi, associazioni, enti del terzo settore, imprese cooperative sollecitati a produrre proposte e strumenti concreti e coerenti ai territori di pertinenza.